Apri il tuo ufficio postale in franchising, siti poste e anche pagamento bollettini, sitiposte.it Alla fine è crollato, confessando l'atroce omicidio. L'assassino degli anziani coniugi Marconi, uccisi a Monte Lupone, ha un volto. Si tratta dell'imbianchino macedone interrogato per tutta la notte nella caserma dei carabinieri. Alla fine di un interminabile interrogatorio avrebbe confessato, dopo aver inutilmente provato ad accusare, il suo condomino marrocchino e un altro magrebino. Il macedone, 28 anni, sposato e padre, avrebbe agito da solo. Domenica mattina presto, a bordo dello scooter preso in prestito dal marocchino, avrebbe raggiunto il casolare di Paolo Marconi, 83 anni, e della moglie Ada Cequetti, 73, con l'intenzione di compiere un furto. Progetto poi degenerato nella rapina finita nel sangue. In casa dell'indiziato sono stati trovati indumenti insanguinati e alcuni gioielli di poco valore appartenuti ad Ada. Per ore e ore il macedone ha ribadito la versione a sua discolpa, tanto che le prime indiscrezioni filtrate dall'interrogatorio davano per imminente il fermo del marrocchino, con il macedone semplice e comprimario nel ruolo di tramite per la ricettazione dei gioielli. E invece all'alba di domenica, quando i due anziani sono stati uccisi, il marrocchino era tranquillamente in casa a dormire. I carabinieri del nucleo operativo di Macerata, con i colleghi della compagnia di Civita Nova Marche, sono andati oltre raccogliendo testimonianze, allargando il cerchio ad altri immigrati, che risiedono nelle campagne di Monte Lupone, moglie del macedone compresa. Nel frattempo la versione del macedone cominciava a scricchiolare, mostrando varie contraddizioni, e alla fine l'uomo avrebbe confessato. Pare che abbia compiuto il duplice omicidio facendo tutto da solo, senza complici. L'ipotesi di reato alla base del fermo è presumibilmente omicidio volontario aggravato.